Allora, signori, buongiorno. Io vi darò alcune informazioni che riguardano tutte le lauree della Scuola di Scienze, quindi sono comuni a tutti. Due parole sull'Università di Padova. Essa è stata fondata nel 1222 e, in particolare, la Scuola di Scienze, attraverso diverse denominazioni, è stata fondata nel 1873, con il termine di Facoltà di Scienze, Matematiche, Fisiche e Naturali. Termine che è stato sostituito il 10 gennaio del 2013 con Scuola di Scienze. La vecchia denominazione rimane però nel linguaggio comune, gli studenti si sentono dove vai, vado in facoltà. In realtà sono cambiate un po' le cose. In questa università, in particolare nella ex Facoltà di Scienze, ha insegnato una persona illustre che la vediamo qui rappresentata, Galileo Galilei, che ha insegnato a Padova dal 1592 al 1610. Scrive nelle sue memorie i 18 anni migliori di tutta la mia vita. Poi immaginiamo Galileo Galilei che insegna, quindi si potrebbe immaginare una cattedra di raso rosso dove spicca questa figura. In realtà vediamo al di sotto dell'immagine quello che era il pulpito, quattro tavole di legno come si usava all'epoca. Allora, come è organizzata l'università? Le lauree. Esistono due lauree diverse. Allora la laurea di primo livello, che è la prima, dura tre anni, alla quale si accede attraverso un test di ammissione, alla fine della quale voi sarete dottori nella materia che avete scelto, matematica, chimica, fisica. E con questa laurea di primo livello potete entrare nel mondo del lavoro. Si può continuare gli studi attraverso la laurea magistrale, che dura altri due anni, alla fine della quale sarete dottori magistrali nelle discipline che avete scelto, matematica, chimica, fisica, eccetera, eccetera. Con questa laurea magistrale potete entrare nel mondo del lavoro. Oppure perfezionarvi nella vostra preparazione seguendo un master o delle scuole di specialità che sono organizzate, hanno durata annuale, sono organizzate dall'università e che servono appunto per dare quella specializzazione dettata dalle esigenze del mondo del lavoro e che l'università e che la laurea magistrale non vi dà, perché ha un carattere un po' più generale. Per chi invece vuole continuare nella ricerca scientifica, c'è la possibilità di partecipare e di iscriversi al dottorato di ricerca. Sono altri tre anni alla fine della quale sarete dottori di ricerca nella disciplina che avrete scelto. Con questo dottorato di ricerca si può entrare nel mondo del lavoro oppure continuare nella ricerca scientifica nelle strutture adeguate, CNR, INFN, eccetera, eccetera. Allora, la scuola di scienza e in particolare le lauree della scuola di scienza afferiscono a sei dipartimenti diversi, dipartimento di biologia, scienze chimiche, geoscienze, fisica e astronomia, matematica, scienze statistiche. Da anni al primo posto nella classifica dell'indagine nazionale del Censis sulla qualità delle università italiane, la scuola di scienze si contraddistingue per l'ampiezza e la qualità dell'offerta didattica. E qui è elencato in tipi di lauree che offrono la scuola di scienza. Abbiamo sedici lauree di primo livello alle quali conferiscono altre sedici lauree magistrali. E c'è da notare che queste lauree sono suddivise per dipartimenti perché i dipartimenti sono la sede dei corsi di laurea. Esistono lauree di primo livello che hanno poi nelle lauree magistrali la possibilità di sdoppiare, avere due lauree magistrali. Per contro, come ad esempio la biologia è la prima che vediamo. Per contro abbiamo, come statistica, l'ultima, due lauree di primo livello è una sola laurea magistrale. Infine esistono, e questo è il caso di ottica e optometria, una laurea, esiste solo la laurea triennale, non c'è la magistrale. Allora, misuriamo il carico didattico. Allora si sente dire, a volte dagli studenti, ci si domanda, i più giovani ai più anziani, com'è difficile quel corso? Allora, lì è sempre soggettiva la risposta. Da tempo è stato introdotto un sistema, un parametro, che è il CFU, che è il credito formativo universitario. In altre parole, i singoli insegnamenti sono valutati con i CFU. L'insegnamento di matematica è 9 CFU o 10 CFU, l'altro insegnamento può essere di 6 CFU. Quindi abbiamo valori diversi. Che cosa vuol dire il CFU? Il CFU corrisponde a 25 ore di lavoro di uno studente medio. 25 ore di lavoro che possono essere suddivise in vario modo. Esistono corsi, questo CFU può essere legato a lezioni frontali, in questo caso un CFU corrisponde a 8 ore di lezione frontale, alle quali 8 bisogna aggiungere 17 di studi a casa per fare 25. Molti delle lauree della scuola di scienze hanno laboratori e quindi in questo caso l'attività di laboratorio, un CFU di laboratorio vale 12 ore, che vengono sviluppate all'interno dell'università. a queste 12 ore seguono 13 ore di studio a casa. Molti corsi di laurea della scuola di scienze hanno anche attività laboratorio di campo. In questo caso un CFU corrisponde a 16 o 18 ore di attività in campagna, alle quali seguono 8-9 ore di studio a casa. In generale ogni anno accademico richiede e viene valutato con 60 crediti formativi, per cui la laurea di primo livello si raggiunge con 180 crediti formativi, la laurea magistrale con 120. L'ordinamento delle lezioni. All'università le lezioni sono a carattere semestrale. Il primo semestre inizia il primo ottobre e finisce verso la fine di gennaio. Alla fine del primo semestre c'è il periodo di esami. Lo studente è chiamato a sostenere gli esami dei corsi impartiti nel primo semestre. Questi esami iniziano a fine febbraio e terminano a fine febbraio. Fine gennaio e terminano a fine febbraio. Il secondo semestre inizia ai primi di marzo e si esaurisce a metà giugno. Alla fine di questo secondo semestre c'è il periodo di esami che parte da metà giugno a fine luglio. Esiste poi una sessione che noi chiamiamo sessione di recupero di esami che si sviluppa da fine agosto a fine settembre. Questa sessione di recupero serve a quegli studenti che nei primi due semestri o meglio nelle prime due sessioni di esami non sono riusciti a sostenere tutti gli esami di quell'anno. Oppure serve, come può succedere a volte, che qualche esame vada buco e quindi la sessione straordinaria serve appunto per recuperare questi piccoli incidenti di percorso. Il periodo di studio all'università lo studente ha la possibilità di svolgere parte dei suoi corsi in uno dei 32 stati europei attraverso vari progetti ad esempio Erasmus o Socrates. Quindi va all'estero sostiene, segue esami e sostiene, segue corsi e sostiene gli esami analogamente a quelli che vengono sviluppati in Italia. Quindi questo è un aspetto formativo di grande importanza perché apre la mentalità all'Europa, alle lingue e a tutto il mondo. Test di ingresso obbligatorio. Questo è il lato un pochino di maggiore interesse per voi in questo istante che vi dovrete iscrivere all'università. Allora, abbiamo detto è un test obbligatorio. Questo test ha un significato diverso a secondo del tipo di laurea al quale uno si vuole iscrivere. Esistono infatti corsi di laurea ad accesso libero e corsi di laurea ad accesso programmato a numero programmato. Molti di questi numero programmato tra le quali vediamo biologia biologia molecolare biotecnologie chimica chimica industriale eccetera eccetera di fianco ci sono i numeri di studenti che vengono ammessi annualmente. Allora, il test di ingresso per gli studenti che si vogliono iscrivere alle lauree ad accesso libero è un test che di fatto serve allo studente per valutare la sua preparazione. Non ha un carattere selettivo è un test di autovalutazione delle proprie conoscenze e competenze in matematica fondamentalmente. Per i corsi di laurea a numero programmato invece il test di accesso serve per preparare una graduatoria. La valutazione del test viene considerata per il 70% e per un 30% in questo caso specifico vengono valutati i voti della maturità. Con la somma di queste due votazioni si genera una lista e su questa lista si va a pescare sulla base dei numeri di accesso alle singole corsi di laurea. Come viene effettuato il test di ingresso? Test di ingresso per le lauree in statistica per l'economia e l'impresa statistica per le tecnologie e le scienze è un test che viene sviluppato online. Per tutti gli altri corsi di laurea della scuola di scienze il test di ingresso è un item a risposta multipla ed in particolare ci sono 20 domande di linguaggio matematico di base 15 di matematica 5 di logica 10 di comprensione di un test scientifico sono due test che vengono ai quali vengono associate 10 item. Questo è un test nazionale quindi è valido per qualsiasi corso di laurea delle scuole di scienze nelle università italiane. Il test di eccesso viene sviluppato i primi giorni di settembre e ci può essere la possibilità che qualche studente non superi questo test per cui lo studente si carica di un debito formativo e come abbiamo visto essendo gli item di matematica un debito formativo di matematica. Cosa deve fare lo studente se ha questo debito formativo? Noi organizziamo nel mese di settembre subito dopo alcuni giorni dopo il test di eccesso un corso di recupero di conoscenze matematiche. È un corso che non è obbligatorio. Lo studente lo può seguire alla fine di questo corso c'è un esame se supera questo esame lo studente cancella il suo debito. Oppure lo studente non vuole seguire questo corso rimane con il suo debito. Noi a questo studente gli permettiamo di iscriversi però gli mettiamo un vincolo che entro il primo anno lui deve sostenere positivamente l'esame di matematica. Ogni corso della scuola di scienze al primo anno ha matematica e quindi come tale lo studente deve sostenere questo corso. Può succedere che non lo sostenga magari può sostenere tutti gli altri esami ma gli manca la matematica anche in questo caso però la scuola di scienze non butta via lo studente ma non gli permette di iscriversi al secondo anno e rimane ripetente del primo anno. esiste una seconda prova di accesso che viene sviluppata verso la metà del mese di settembre ma questa prova è riservata agli studenti che per motivi seri e gravi non hanno potuto partecipare alla prima prova. Ovviamente per questi studenti che accedono alla seconda prova loro non hanno se hanno un debito formativo non hanno il tempo materiale per seguire i corsi e quindi loro si iscrivono come ho detto prima però con l'obbligo di sostenere l'esame entro il primo anno. Smanettiamo un pochino perché le informazioni voi oggi come oggi a computer ne potete avere in gran quantità. Allora prima di tutto in questo sito iversity.org eccetera eccetera c'è la possibilità di collegarsi al link del dipartimento di matematica dove gli studenti che hanno carenze di base nella matematica possono esercitarsi in preparazione del test di accesso oppure affrontare il corso o i corsi di matematica del primo anno con una certa agilità e con una certa preparazione. Questo sito questa iscrizione è obbligatoria l'iscrizione ma gratuita è un corso che consta di nove capitoli suddivisi in cento unità 84 delle quali hanno un video di 8-10 minuti e materiale di supporto PDF delle lezioni soluzione degli esercizi proposti quiz 16 di questi capitoli hanno solo dei quiz quindi basati sui test degli anni scorsi con redati da soluzioni alla fine ci sono due simulazioni di test finale e quindi lo studente può valutare se la sua preparazione è adeguata o meno. Altro sito di grande interesse è quello della scuola è riportato in cima scienze.uniped.it qui troviamo tutte le informazioni di tutti i corsi di laurea della scuola in particolare cliccando su orientamento e quindi sui corsi si può si apre una finestra dove all'interno noi troviamo tutte le informazioni innanzitutto la presentazione di tutti i corsi di laurea scegli con noi il tuo futuro il tuo domani è l'iniziativa che noi sviluppiamo a febbraio e quindi all'interno si trovano tutti i pdf presentati in queste giornate di presentazione delle lauree a scuola con Galileo è un file multimediale un po' datato ma che ci permette permette allo studente di entrare nel mondo dell'università di Padua entrare nei dipartimenti nei laboratori nelle biblioteche quindi ancora una valenza positiva infine non spendete soldi a comprarvi libri di quiz in preparazione del test basta cliccare su conoscere e prepararsi al test di ingresso e lì sono importanti tutti i test degli anni scorsi con le relative risposte altri siti di interesse www.universeitaly questo è un sito generale del MIUR del ministero dove ci sono le informazioni di tutte le università italiane quindi si possono fare dei confronti tra l'università di Padua e altre università altro sito di interesse è Clicca Lavoro Veneto organizzato appunto dalla regione Veneta è un sito che non è completo ancora è in fase di ultimazione dove si possono avere molte informazioni sulle offerte formative degli studenti anche dopo la laurea alcuni dati adesso statistici sui laureati della facoltà di scienze cosa farò da grande allora è un'indagine questa che è stata effettuata su 238 laureati della scuola di scienze 83 di laurea triennale 155 di laureati magistrali e questo test è stato effettuato a 6 mesi e a 12 mesi dopo il conseguimento della laurea cosa vediamo queste sono le lauree triennali a 6 mesi siamo in alto a sinistra la barra blu indica quanti laureati triennali hanno trovato impiego nel mondo del lavoro dopo 6 mesi in basso a destra dopo 12 mesi quindi già da questo primo screening vediamo che i laureati delle scuole di scienze hanno una certa possibilità di entrare nel mondo del lavoro se noi visitiamo la situazione per le lauree magistrali è più o meno è analoga a quella del lauree triennale le barre blu indicano chi ha trovato posto nel mondo del lavoro allora questo serve un attimino ad avere un'idea di che cosa farò da grande però non deve essere l'elemento di scelta perché perché se tutto va bene voi vi iscrivete all'università e se ne parlerà fra 5 anni in questi 5 anni le cose possono cambiare e a volte cambiano radicalmente per cui la scelta dell'università non deve essere basata su ciò che vorrò fare da grande ma su ciò che amo fare e amo studiare e con questo io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona scelta